John Borno ragazzi, John Borno amici e benvenuti qui sul secondo canale ovviamente questo secondo canale lo sto utilizzando praticamente al pari alla pari del primo diciamo che vi sto parlando delle italiane sul primo e poi il giorno dopo appunto si parla delle altre tra l'altro, tra l'altro, sempre alle ore 7 esce il video su questo secondo canale quindi mi raccomando non vi perdete i video qualora insomma vi interessassero quindi lasciate l'iscrizione a questo canale e un mi piace prima di iniziare vi faccio questa domanda secondo voi il Manchester City quanta percentuale ha di passare dopo la vittoria contro il Real Madrid? comunque vi stavo dicendo quindi ovviamente sul primo canale mi lascio la possibilità di parlare delle italiane in questo momento l'altro ieri ho parlato del Napoli che appunto ha pareggiato contro il Barcellona bloccandolo sull'1-1 e ieri mattina appunto vi ho fatto il video del Bayern che ha battuto il Chelsea 0-3 ieri sera ho parlato della Juventus che un po' a sorpresa comunque lasciando tutto aperto ha perso a Lione per 1-0 e oggi, stamattina appunto, vi vado a parlare di Real Madrid-Manchester City tra l'altro non dimenticandoci che stasera giocano Inter e Roma per quanto riguarda l'Europa League e allora Manchester City che vince, che espugna il Bernabeu Bernabeu e ragazzi a mio modo di vedere espugnare il Bernabeu è comunque sempre un mezzo miracolo poi il Manchester City ha tutte le carte in regola per battere il Real Madrid soprattutto un Manchester City lanciato, lanciato da questa maledizione del non poter partecipare alla Champions per due stagioni questo si dice, poi vedremo i ricorsi addirittura ieri ragazzi ho letto che il Manchester City sta pagando 2000 euro al giorno 2000 euro al giorno ragazzi ma ci rendiamo conto al miglior avvocato del mondo per vincere questa causa quindi il City non si fermerà certamente a queste prime accuse ma insomma arriverà a fondo alla questione è un'impresa perché vincere il Bernabeu è un'impresa mi aspettavo sinceramente che dai primi attimi subito si attaccasse da una parte all'altra subito quindi Real che attaccava il City che partiva subito in contropiede o anche il contrario, forse addirittura il contrario perché tra le due forse la squadra un po' più attendista è quella di Zidane a sorpresa perché poi non è che Zidane aspetti molto però Guardiola gioca molto con gli spazi Guardiola gioca molto palla al piede in avanti a verticalizzare a dare ampiezza con le ali, ormai lo conosciamo Guardiola e quindi il City, quindi il City mi aspettavo gioca a sé in avanti invece per 20-25 minuti buoni le occasioni sono contate non dico proprio solita di una mano ma anche su un dito ci sono contate perché forse al massimo un paio d'occasioni ci sono state nei primi 20 minuti e le squadre si sono studiate ok è una situazione abbastanza tattica che secondo me ci può anche stare perché mentre per esempio no che so per dirti si affrontano Atalanta e Valencia ok ma si affrontano anche Juventus e Leone tu bene o male sai come tu Sarri sai come l'ha preparata Garzia tu Garzia sai come l'ha preparata Sarri e quindi ti fai il tuo gioco questo è un discorso che si potrebbe tranquillamente fare con tutte le squadre ma Real Madrid-Manchester City è un match molto particolare perché è un match che mette di fronte forse, forse le due favorite per la vittoria finale ci metto dentro il Barça, ci metto dentro la Juventus qualcuno l'ha risalamentato perché non ci ho messo dentro direttamente anche il Liverpool per me quest'anno il Liverpool in Champions parte un tassello indietro perché vuole la Premier, perché sente la pressione della Champions perché l'ha vinta l'anno scorso perché sente la pressione della Champions perché qualora ci sta agli ottavi soprattutto contro un avversario più scarso perché ovviamente sta affrontando un avversario più scarso rischierebbe a mio modo di vedere il Liverpool di non fare nulla fino a fine giugno e quindi insomma il Liverpool in questo momento non mi sento di mettercelo Real Madrid-Manchester City era il match proprio della giornata ma non della giornata ieri, proprio della giornata di tutto il palinsesso degli ottavi di finale e quindi ovviamente era quello che mi incuriosiva un po' di più quindi magari esiste la possibilità che Guardiola abbia deciso di stravolgere un po' il modo di giocare aveva deciso invece di costruire dal basso, di provare a costruire direttamente dalle due fasce può darsi che Zidane volesse provare appunto a giocare palla lunga può darsi che Zidane volesse provare a giocare con l'incontrista può darsi che Zidane volesse provare a giocare con la punta che venisse a fare la sponda e Vinicius che partisse quindi insomma nei primi 20-25 minuti c'è stato questo volersi studiare a vicenda che sinceramente ho capito, dopo 25 minuti la gara finalmente ha preso il volo anche a livello di intensità perché dal momento in cui una delle due capisce come giocare, come affrontare l'altra è il momento giusto per andare avanti, per spingere e in quel caso l'altra ovviamente non ha più niente da studiare l'altra semplicemente deve rispondere colpo su colpo deve decidere se giocare a specchio o deve decidere semplicemente se voler difendersi e sfruttare appunto le varie mancanze della squadra avversaria quindi come situazione secondo me era abbastanza leggibile, era abbastanza probabile quello che però vediamo ieri a sorpresa è probabilmente il giocatore più esperto di tutta la gara sto parlando di Sergio Ramos peggiore, veramente ragazzi peggiore in campo a colpa su uno dei due gol, ne parleremo dopo a colpa ovviamente sull'espulsione tra un po' si faceva tra l'altro anche un autogol se non sbaglio erano ancora sullo 0-0 quindi Sergio Ramos ieri non ha azzeccato praticamente niente di tutto quello che potesse azzeccare Sergio Ramos peggiore in campo e il Manchester City un po' come avevo pronosticato perché mi aspettavo questo che ho preso praticamente quasi tutti i pronostici perché avevo detto che il Napoli avremmo visto entrambe le squadre in gol e questo è successo non è successo del Chelsea ho detto che avrebbero segnato entrambe le squadre il Chelsea non ha fatto gol è successo del Real l'ho detto che entrambe le squadre avrebbero fatto gol e questo è stato mentre per la Juventus ho detto al massimo vedremo tre gol a esagerare perché secondo me sarà una partita molto bloccata l'Ione-Catenacciaro e questo bene o male è successo poi anche complice il fatto che la Juventus non sia poi scesa bene in campo però questo effettivamente è successo e mi aspettavo questo mi aspettavo questo ve l'ho detto anche dal primo quei 20-25 in cui noi sono stati un po' una sorpresa un surplus di cui parlare oggi oggettivamente ed è sempre un piacere vedere due squadre che si studiano in campo a mio modo di vedere noioso sia ai fini della partita però comunque è sempre un piacere perché si va ad analizzare anche un po' la tattica e il Manchester City merita merita di vincere a Madrid e paradossalmente va sotto proprio nel miglior momento degli inglesi va sotto nel proprio miglior momento Modric da questo palone per Vinicius e lì poi è un errore individuale quello di Walker che si perde Vinicius perché lì se Walker avesse appunto fatto il proprio lavoro il proprio mestiere e come sa farlo perché ha dimostrato spesso di saperlo fare poi al di là delle critiche ma sapete quando un giocatore viene pagato una cifra così altisonante si aspetta il primo errore per mazzolarlo errore di Walker palla dentro e appunto Isco va in gol e poi però c'è il pareggio meritato il pareggio meritato di Gabriel Jesus se non sbaglio suo assist sempre del solito De Bruyne protagonista, leader in campo e lì ragazzi secondo me c'è l'errore di Sergio Ramos perché Sergio Ramos si fa sovrastare di testa in quel modo 12 minuti dalla fine 13 minuti quanto mancava appunto da Gabriel Jesus e io qua no fanno l'1-1 ho detto vabbè adesso la gara è scritta 1-1 al City va bene il Real non è propriamente in palla nel senso mi sembra che il City sia più sulle più sull'attenti ok il Real Madrid era molto sulle gambe nel finale stava faticando vedeva qualche incursione di troppo se la perdeva sulle due fasce ho pensato adesso il City si accolterà del pareggio in vista del ritorno il Real si si arriva il gol benvenga ma insomma non si squilibrerà non si non si butterà troppo in avanti non rischierà troppo quindi ho detto sicuramente in questo momento la partita andrà proprio nel mi aspettavo ma se avessi dovuto giocare il mio urino sinceramente mi aspettavo molto di più che la Juventus pareggiasse il match a Lione quei dieci dalla fine piuttosto che avremmo visto un altro gol a Madrid e invece il City di Guardiola attacca il City vede il sangue perché è quello che ha visto il Real Madrid sanguinava ok il Real Madrid sanguinava è come uno squalo Guardiola ha visto il sangue ha detto raga attacchiamo attacchiamo hanno attaccato e appunto calcio di rigore poi in quel caso per il City errore di sapete che non mi ricordo chi ha concesso Carvacal Carvacal ha steso ha steso Sterling De Bruyne va al dischetto 2-1 e tutti a casa nel finale l'espulsione ve l'ho detto di Sergio Ramos dal limite dell'area che stende forza la Gabriel Gesù ora vado un po' a memoria non è che mi ricordi proprio tutto e quindi il Real non solo perde il match in casa non solo lo perde contro probabilmente la squadra un po' più favorita di questa Champions almeno per me per me il City è la più forte non più forte ma è la favorita non invece sempre la più forte non so chi sia la più forte se il City secondo me è la favorita se la gioco con quelle là con le solide nastri di partenza non solo perde con il City in casa ma perde anche il proprio miglior uomo che se deve essere questo no no nel senso oggi raga Ramos ha fatto più 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 danni della grandine a Roma più danni della pioggia a Roma quando fa le buche ok quindi ha fatti a bizzeffe però è un giocatore che ha un'esperienza grossa così c'è un'esperienza che ti aiuta drasticamente a divincolarti quando qualcosa va male oggi è andato male lui e quindi c'è poco da dire e quindi oltre il danno la beffa io non so come il Real Madrid possa girare questa gara però va detta una cosa poi chiudiamo perché sto parlando tanto oggi me la sento proprio va detta una cosa fondamentale la cosa fondamentale che va detta ragazzi è che lo scorso anno non so se vi ricordate il Real Madrid sembrava potesse tranquillamente eliminare l'Ajax agli ottavi poi l'Ajax è venuto a Madrid e ha fatto il partitone per questo secondo me non va escluso il fatto che il Real possa andare all'Itiad Stadium a vincere per me non lo farà cioè nel senso magari anche se dovesse farlo per me passa il City magari finisce a 0-1 per me no per me addirittura il City vince anche il ritorno però questo secondo me non è da escludere la vittoria del City secondo me proietta i Citizen in una posizione di passaggio molto probabile non quasi sicuro perché è un'esagerazione ma molto probabile però ragazzi ci sono 90 minuti più recupero da giocare e secondo me può succedere di tutto veramente di tutto fatemi sapere la vostra io vi ringrazio per aver visto questo video iscrivetevi a questo canale buon scelanale noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao